La Saipem aumenta e qualifica la sua presenza a Fano. La prestigiosa ditta, nota in tutto il mondo per le competenze e le capacità dei suoi tecnici, in grado di costruire mastodontici, metanodotti e centri di perforazione ad alta ingegneria e non solo, ha inaugurato un nuovo edificio che migliora sempre più le condizioni ambientali dei suoi dipendenti. Un edificio di 5.231 metri quadri che ospita più di 530 postazioni di lavoro, con sale meeting, aree break, phone boots e aree flessibili, destinate al confronto e alla collaborazione tra colleghi. A seguire è prevista l'apertura di una clinica e di una palestra aziendale per fornire ai dipendenti ulteriori servizi e facilitarli nella conciliazione tra vita lavorativa e vita personale. L'investimento pone fine ai timori di un'eventuale chiusura dello stabilimento di Fano. Ce lo ha confermato l'amministratore delegato Alessandro Puliti che con il sindaco di Fano Massimo Seri ha inaugurato la nuova sede. La Saipem resterà ancora lunga nella nostra città? Direi assolutamente sì, non abbiamo nessuna intenzione di andarcene. Anzi, questo investimento in efficientamento energetico e in riqualificazione degli uffici, proprio testimonia al fatto che in Saipem noi diamo molto valore all'attività che viene fatta dalle più di 1100 persone che lavorano negli uffici Saipem di Fano e che tutti i giorni con il loro lavoro contribuiscono ai progetti energetici che facciamo in tutti i cinque continenti del mondo. Lei ha parlato molto di formazione, di formazione del personale. Qui si assumano anche giovani ingegneri. Questa è una prerogativa importante per Saipem? Assolutamente sì, investiamo tanto in formazione e grazie anche a un territorio dalle risorse molto importanti. Infatti, come è noto, abbiamo accordi di collaborazione sia con l'Università di Urbino sia con l'Università Politecnica delle Marche dove con il loro contributo e insieme forniamo le nuove generazioni da assumere e portare a lavorare in Saipem. Come si inquadra il lavoro della Saipem di Fano nel quadro generale della Saipem che ha ovviamente centri in diverse località? Allora, la Saipem opera in più di 70 paesi nel mondo. Fano è un luogo di eccellenza per la progettazione degli impianti. Storicamente Fano è il luogo, per esempio, dove noi progettiamo tutti i pipeline che la Saipem posa in giro per il mondo e, giusto per dargli un numero, fino ad oggi abbiamo posato 32.000 chilometri di pipeline, la maggior parte dei quali progettati qui a Fano. Un'ultima domanda, energie alternative, energie fossili ma anche efficientamento energetico. Assolutamente, l'efficientamento energetico costituisce una parte essenziale e fondamentale della transizione energetica e gli impianti che vengono progettati qui a Fano tengono tutti conto di questo elemento ormai ineludibile. Tanto ineludibile che abbiamo voluto aggiungere un impianto fotovoltaico sul tetto dei nostri uffici proprio per essere certi che non solo offriamo ai nostri clienti soluzioni a basso contenuto carbonico, ma anche il nostro lavoro quotidiano è un lavoro a basso impatto carbonico.